Sta per concludersi l'ottavario della festa di Santa Lucia 2019, domani infatti alle 16 partirà la lunga processione di rientro del simulacro. Alle 11 l'arcivescovo emerito di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo, presiderà la solenne concelebrazione eucaristica alla quale prenderanno parte i vigili del fuoco che renderanno omaggio alla Santa Patrona. Poi alle 16 il via alla processione per le vie della città che si preannuncia essere molto più partecipata rispetto agli anni precedenti. Molti devoti che hanno rinunciato alla processione del 13 a causa delle avverse condizioni meteorologiche infatti accompagneranno domani la Santa Patrona nel percorso di ritorno dalla borgata alla cattedrale di Piazza Duomo. Durante la processione che, meteo permettendo, dovrebbe avere una durata maggiore rispetto al passato, ci saranno due momenti particolarmente emozionanti. L'incontro tra Santa Lucia e Maria nei cortili del santuario della Madonna delle Lacrime e la visita agli ammalati dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Dal corso Geloni al corso Umberto, come accade dai tempi del terremoto del 90, saranno i vigili del fuoco a portare a spalle il simulacro della Santa Patrona siracusana. La processione dell'ottava sarà arricchita, come detta la tradizione, dallo spettacolo pirotecnico che sarà eseguito quando il simulacro sarà arrivato al Ponte Umbertino. In questi giorni sono state decine di migliaia fedeli che hanno fatto visita a Santa Lucia partecipando anche alle Santemesse, numerosi pellegrinaggi dalle varie comunità della Sicilia. A partire dalle 15.30 domani partirà la nostra maratona live per raccontarvi la processione dell'ottava della festa di Santa Lucia. Potrete seguirci da tutta la Sicilia sul canale 172 ed in streaming sui nostri canali ufficiali.